Bene, iniziamo. Allora, oggi approfondiamo la valutazione del costo di esecuzione di un programma. Ripeto brevemente qual è l'idea. L'idea è di usare una valutazione che sia indipendente dal linguaggio di programmazione usato, dalla macchina, dal calcolatore che usiamo, dal compilatore che usiamo, dai dati specifici che usiamo. Cioè avere una valutazione che sia, per quanto possibile, più oggettiva, più matematica e accettata da tutti possibile. E per fare questo si introduce una notazione, che è la notazione O grande, che valuta il costo di un programma con una serie di assunzioni. Questa ipotesi, questo tipo di valutazione, abbiamo discusso quando l'abbiamo fatto, ha dei limiti che non dà delle garanzie assolute, ma dà delle valutazioni di tipo approssimato e che valgono bene quando l'input e le dimensioni dell'ingresso sono molto grandi. Fatto questo, rivediamo un po' quali sono i passi principali. Allora, la valutazione è quella di introdurre una notazione O grande, che elimina tutti gli aspetti secondari del costo di esecuzione di un programma. Quindi, ad esempio, se il costo di esecuzione del mio programma può essere espresso da una funzione tipo 45n quadro più 1000n più 500, dove n rappresenta la dimensione dei dati di ingresso che stiamo trattando, che ovviamente deve essere tenuto in conto, noi semplifichiamo questo semplicemente scrivendo O di n quadro, in modo tale da considerare solo il limite, il fattore che più contribuisce quando n diventa molto grande. n, ricordo, è la dimensione dei dati di ingresso ed è fondamentale tenerne conto in questa valutazione perché se noi siamo interessati all'efficienza dei programmi, non siamo interessati all'efficienza di programmi che usano pochi dati, piccole istanze di problemi. Perché quelli, vuol dire, se ci mettiamo 20 nanosecondi o 100 nanosecondi cambia poco per noi esseri umani. Quello su cui siamo interessati è l'efficienza di programmi che devono trattare grandi moli di dati. Quindi quando n è un milione o un miliardo, bene, la differenza può essere significativa. Quindi l'idea è di tenere conto di una semplificazione di questo tipo usando un comportamento assintotico, in qualche modo ispirato a quello che avviene nello studio dell'analitico delle funzioni in analisi matematica. Detto questo, noi facciamo una valutazione del caso peggiore e un'altra semplificazione che facciamo è quella di considerare solo le istruzioni elementari che vengono usate. Questa è una semplificazione perché impone che sostanzialmente non conta se un'istruzione impiega una unità di tempo del clock dell'orologio del computer o 5 o 50 e questa è una semplificazione ulteriore che introduce un'approssimazione alla nostra valutazione, però è una semplificazione che ci permette di fare i conti molto più semplicemente e di avere un ordine di grandezza significativo. Quindi in qualche modo noi ignoriamo nel costo di esecuzione di quelle funzioni che abbiamo visto prima, contiamo ogni singola istruzione, ogni singola test, insomma ogni riga diciamo così sostanzialmente del programma Python che scriviamo come 1. Ovviamente questo vale entro certi limiti perché se noi ad esempio abbiamo la nostra riga del programma e la chiamata di una, l'attivazione di una funzione che richiede una lunga elaborazione dobbiamo contare le operazioni elementari eseguite da questa funzione. Cioè vuol dire se un'operazione elementare è quella di, ad esempio, di ordinare in automatico come può essere fatto con una routine, una lista di elementi, bene non è che possiamo dire che conta 1, c'è in Python un modulo che ci permette di fare l'ordinamento di una lista. Voi gli date la lista, dite ordina questa lista e il programma, la funzione lo ordina. E' chiaro che questo non può costare 1 ma dovrà dipendere da quanto sono grandi le dimensioni della lista ma sarà chiaro alla fine della lezione. Un altro punto di riferimento importante, e chiudo qui il riassunto, della puntata precedente è il fatto che noi non facciamo riferimento al caso medio come potrebbe essere ragionevole o al caso migliore di un algoritmo come potrebbe essere meno ragionevole ma facciamo riferimento al caso peggiore, al caso più sfortunato. Questo perché? Perché noi siamo interessati all'efficienza dei programmi ed ancora non siamo interessati a sapere l'efficienza dei programmi quando i programmi funzionano bene, quando i casi sono facili. Noi siamo interessati all'efficienza dei programmi quando i dati sono difficili, quando sono complicati. Uno potrebbe dire ma no, ma io sono interessato al caso medio. Bene, è vero che in alcuni casi il caso medio è più rilevante del caso peggiore, ma non in tutti. Il caso medio ha poi un'ulteriore difficoltà. La difficoltà è il fatto che è molto difficile analizzare, a definire qual è il caso medio. È il caso medio per me, il caso medio per un'altra persona oppure il caso medio che si verifica fra tutte le persone. E come lo determiniamo? Quindi definire cos'è il caso medio è difficile e potrebbe lasciare ambiguità e discussioni. Invece il caso peggiore, anche se ha questa limitazione, è una definizione robusta perché è matematicamente certa, non c'è ambiguità in questo. E poi in alcuni scenari, ad esempio in programmi che devono controllare la sicurezza di una centrale nucleare, io non sono interessato a sapere se il programma che mi segnala un incendio nella centrale nucleare mediamente ci mette meno di un altro programma. Io voglio sapere un programma che nel caso più sfortunato ci metta meno di tutti. Cioè, vuol dire, io sono interessato al caso peggiore, al caso che può essere più rischioso in questi scenari. Bene, chiarito questo, ricordiamo un po' un esempio. Un esempio è quello, ad esempio, di un programma che somma tutti gli elementi di una lista. L'analisi di questo programma che abbiamo già visto è qual è? E uno dice, allora io conto 1 per ogni istruzione che eseguo, quindi conterò, qua c'ho una lista assegnata ad A, quindi assegno una lista ad A, una lista di elementi, poi faccio la somma in quel frammento di programma. Che cosa fa? Beh, assegnerà un'istruzione per inizializzare il valore di somma e poi esamina ad uno ad uno tutti gli elementi della lista ed eseguo un'operazione di somma a S, somma il valore dell'elemento considerato. Quindi, qual è il numero di operazioni? Beh, è chiaro che il numero di operazioni che noi eseguiamo in questa, se pensiamo alle operazioni di assegnazione e di addizione, eseguiamo un'istruzione più un numero di istruzioni, per scalcolare S, pari al numero di elementi della lista e poi un'ultima istruzione finale di stampa. Quindi possiamo dire che il programma, quel costo per il programma è 2 più il numero di elementi della lista. Quindi la dimensione dell'input, in mio caso, è data dalla dimensione della lista, in questo caso 5 elementi. Allora, vedete che, poi uno potrebbe discutere se l'istruzione for x in A deve essere contata o meno, ma se ci pensate, questo poi è ininfluente dal punto di vista della nostra valutazione finale, perché se io conto for x in A come singola istruzione, cioè l'assegnazione di x, l'aggiornamento del valore di x nella lista A, allora potrò dire che il mio costo non sarà 1, 2 più il numero di elementi della lista, ma sarà 2 più 2 volte il numero di elementi della lista. E a questo punto, però, poiché io ignoro i fattori moltiplicativi, mi concentro solo sull'andamento asintotico, beh, uno, nella primo caso, vi ho dato una valutazione del costo che è n, dove n è il numero degli elementi della lista, più 2. Nel secondo caso sarà 2n più 2. Ma poiché ignoro fattori moltiplicativi costanti, in ambedue i casi potrò dire che la valutazione è O di n. Ci siamo tutti su questo fatto della valutazione O di n. Oggi faremo esercizi più complicati e per fare questo passiamo all'argomento. Allora, oggi che cosa vediamo di nuovo? Vediamo algoritmi di ricerca e ordinamento. Mi limito questo... L'ordinamento e la ricerca sono due problemi fondamentali e quindi ci sono decine, se non centinaia, di algoritmi che possono essere studiati. Ovviamente noi non li vedremo, vedremo solo due algoritmi molto semplici che ci servono anche un po' come esercizio, un po' per capire, almeno in un caso, come poi possiamo avere nell'ingegno avere una valutazione più efficiente rispetto ad algoritmi standard. Allora, cosa vediamo? Vediamo algoritmi di ricerca in una lista e poi vedremo algoritmi di ordinamento sempre di una lista. Allora, il primo algoritmo di ricerca banale che noi possiamo immaginare è l'algoritmo di ricerca sequenziale. Io posso andare a cercare... Ho una lista, sto cercando se... Supponete di avere la lista degli studenti indicizzata dalla loro matricola e sto vedendo se una certa matricola è presente in una lista degli studenti iscritti al corso. Quindi ho la matricola, ho una lista di matricole e l'algoritmo più semplice che può venire in mente è esaminare, confrontare il primo elemento della lista con la matricola che sto cercando, se sono uguali o finito, se non sono uguali, passo al secondo elemento della lista, se sono uguali o finito, se no al terzo e così via fino a che arrivo alla fine. e arrivo alla fine e posso arrivarci o che ho trovato l'elemento che cercavo oppure se l'ultimo elemento della lista non è quello che sto cercando posso dire che il mio elemento non appartiene alla lista. Penso che l'algoritmo sia abbastanza ovvio, scontato, banale, insomma. Sia considerato una perdita di tempo. Allora, analizziamo senza... Notate, adesso voglio darvi però un punto. Adesso facciamo l'analisi di questo algoritmo senza nemmeno avere scritto il programma. Cioè, io vi ho detto qual è l'analisi di costo di esecuzione di un programma. Quindi se noi vediamo il programma possiamo fare l'analisi. Ma se, in alcuni casi molto semplici, tipo questo, noi possiamo fare l'analisi del nostro programma senza nemmeno averlo scritto. Cioè, anche solo sulla base della descrizione dell'algoritmo. Allora, l'algoritmo che io vi ho descritto che cosa fa? Dice, prendi una lista e prendi l'elemento e confronta l'elemento che stai cercando col primo della lista. Se va bene, se hai trovato, finisci. Se non va bene, passa al secondo. Se va bene, al secondo confronto, hai finito. Se no, passi al terzo, eccetera, eccetera. Bene. Ora, incominciamo a fare un po' di domande del tipo di dover scrivere questo programma. Però vi chiedo prima qual è il costo di esecuzione. Allora, per stabilire il costo di esecuzione dobbiamo stabilire innanzitutto qual è la dimensione dell'input. Allora, se io sto cercando un elemento in una lista quale sarà la dimensione dell'input? Saranno gli elementi della lista. Cioè, più è grande la lista e più, ragionevolmente, sarà complicato il problema della ricerca. Quindi la dimensione dell'input è data, dell'ingresso è data alla dimensione della lista. Quindi il nostro N in cui esprimeremo il costo di esecuzione dell'algoritmo è dato dal numero di elementi della lista. Ci siamo? E notate che non ho scritto il programma. E questo è banale. Adesso, la seconda elemento della nostra analisi è che dobbiamo far riferimento al caso peggiore. Ora, non abbiamo scritto il programma, ma se io vi ho descritto questo algoritmo, una qualunque implementazione ragionevole che voi possiate scrivere di questo algoritmo, quale individua come caso più sfortunato per il programma? Il caso più sfigato è il caso in cui l'elemento che sto cercando non è presente nella lista oppure è l'ultimo elemento della lista. Giusto? Perché è ovvio, qual è il caso più fortunato? Quando l'elemento che sto cercando è il primo. Quindi, poi ci avrò il caso medio, ma non è chiaro, vedete qui il caso medio, quando è presente o non è presente il caso medio? Chi lo sa? No? Quindi, il caso più sfortunato è il caso in cui è l'ultimo elemento della lista. E allora, e questo lo abbiamo chiaro. Adesso la domanda che io mi pongo senza aver scritto il programma è qual è il costo di esecuzione dell'algoritmo? Se ignoro fattori moltiplicativi? Beh, voi lo possiamo scrivere in tanti modi diversi questo programma, però avrà, che cosa? Avrà una certa parte di inizializzazione delle variabili, che però lo eseguiamo una sola volta e quindi è costante, quindi possiamo ignorarne il costo. E poi abbiamo un costo che dipenderà dalla scansione della lista. E la singola operazione che noi facciamo sulla lista quale sarà? Beh, se l'elemento che stiamo cercando è l'elemento che stiamo considerando ora nella lista, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo uscire dal ciclo, giusto? Altrimenti dobbiamo riterare e rimanere nel ciclo. Quindi, l'operazione fondamentale che noi possiamo fare dipenderà come decidiamo di uscire dal ciclo in qualche modo, come realizziamo il ciclo, ma credo che sia ragionevole assumere che qualunque programma voi possiate scrivere per fare l'elemento di ricerca in una lista avrà un ciclo in cui ci sarà un numero uno, due o tre, ma comunque costante di operazioni per ogni elemento della lista per sapere se è l'elemento che sto cercando o meno. Vi torna questo? Io, comunque lo scriviate a seconda del proprio gusto personale delle istruzioni, però voi scriverete un numero costante di operazioni per ciascun elemento della lista per decidere se quello che state cercando è l'elemento oppure dobbiamo passare a quello successivo. E quindi, poiché noi ignoriamo fattori costanti moltiplicativi, possiamo dire, io posso concludere che una qualunque implementazione ragionevole di questo programma, di questo algoritmo in un programma porta un programma che ha un costo ordine di n dove n è il numero degli elementi della lista quindi ha un costo lineare e vi ricordo nella notazione o grande viene ignorato o cancellato dei fattori moltiplicativi e dei fattori additivi di ordine inferiori che in qualche modo tengono conto poi delle specificità di come uno scrive il programma che abbiamo appena discorso. E' chiaro a tutti questo, cioè ho preso questo estremo approccio proprio per darvi l'idea di come questo tipo di notazione semplifica molto la vita di chi vuole analizzare il costo del programma. E ad esempio una possibile implementazione può essere data in questa funzione python in questo programma python e qui se non l'analizziamo vediamo che effettivamente è un costo lineare. Allora mentre assegna a k il valore 0 che sarà l'indice con cui scordiamo gli elementi della lista mentre k è minore della lunghezza della lista della sequenza se l'elemento k della lista è uguale al valore ritorna true e a questo punto incremento k e altrimenti se non ritorno true ritorno falso perché l'elemento non è presente. Ci siamo d'accordo tutti che quelle poche linee di definizione di ricerca sequenziale risolvono il nostro problema. Siamo tutti convinti della correttezza di questo frammento di programma? Io incremento cerco all'inizio k uguale a 0 verifico se il primo elemento della lista è quello che sto cercando se chiedo alla funzione di ritornare true quindi di uscire terminare la funzione ho trovato l'elemento è inutile andarlo a considerare altri o altrimenti incremento k fin tanto che k è minore della lunghezza della sequenza se a questo punto verifico l'ultimo elemento se ancora non l'ho trovato ritornerò falso l'elemento non è presente nella lista quindi vedete questo frammento di programma quante istituzioni esegue? Beh eseguirà le istruzioni k uguale a 0 una volta eseguirà le istruzioni return true o return false una volta sola giusto? perché non è che ne eseguo più una volta che ritorno non ne eseguo più quindi e poi eseguirò un numero di istruzioni pari a if sequenza k uguale valore e poi k uguale k più 1 e queste due istruzioni di test e di incremento di k le eseguo due volte per ogni iterazione del ciclo while e quante volte eseguirò nel caso peggiore il ciclo while tante quanto è la lunghezza della sequenza della lista e quindi vedete che il costo di eseguzione del mio programma sarà 2 per n dove n è la dimensione della lunghezza dell'input più 2 che però semplifico o di grande di n ci siamo tutti su questo? Adesso invece vediamo un algoritmo più astuto per la ricerca e questo algoritmo presuppone però che gli elementi che io ho da cercare siano in una lista ordinata per i valori cioè quindi gli elementi sono ordinati di già allora adesso non si usa qualche anno fa quando 10 anni fa o 20 anni fa quando insegnavo questo algoritmo era molto facile l'intuizione era l'intuizione era ovvio quella degli elenchi telefonici adesso gli elenchi telefonici non si usano più o li usano solo i vostri nonni noi nessuno li usa più nessuno li prende più ma gli elenchi telefonici una volta fino a non tanti anni fa erano l'unico modo in cui uno trovava i numeri di telefono oppure doveva chiamare a pagamento il servizio quindi di solito l'unico modo che usava era quello di andare a cercare degli elenchi telefonici detto questo gli elenchi telefonici di Roma erano due volumi di questo spessore con carta molto fine c'erano circa 1600 1700 pagine e allora nessuno di noi avrebbe immaginato se doveva cercare il numero telefono di Zorro di iniziare ad aprire la prima pagina del primo volume e andare a cercare l'algoritmo sequenziale dicendo in cui c'era Abate e dico Abate è uguale a Zorro? no ora passo ad Abatino e ne è uguale a Zorro no poi passo al terzo eccetera perché sappiamo l'ordinamento alfabetico e uno dice va bene se Zorro so che più o meno è alla fine vado a cercare alla fine se cerco Marchetti Marchetti è più o meno a metà dell'elenco telefonico apro l'elenco telefonico a metà è chiara l'intuizione e che cosa facciamo supponiamo di dover cercare Marchetti apro l'elenco telefonico a metà metto il dito sul primo nome che mi viene nella pagina e è chiaro che io posso avere tre possibilità o una che sono molto fortunato ho messo il dito esattamente sulla persona che sto cercando e allora ho finito cerco Marchetti e trovo Marchetti oppure può essere che dove ho puntato il mio dito sia Santucci diciamo così per usare un nome a caso e Marchetti viene Santucci viene dopo Marchetti e questo che cosa vuol dire vuol dire che se io ho aperto il mio elenco ho puntato a questo punto dell'elenco e qui c'è Santucci vuol dire che Marchetti sarà nella parte prima precedente giusto viceversa se mi è capitato un nome tipo Gaudio invece di puntando poiché Gaudio viene prima di Marchetti dovrò cercare nella parte successiva è chiaro a tutti questo sfruttiamo sapendo che sono ordinati a seconda di dove troviamo ci dà un'informazione se dobbiamo andare sopra o sotto intuitivamente immaginando un elenco ordinato bene allora l'algoritmo di ricerca binaria non fa altro che in qualche modo formalizzare questo concetto in realtà noi come esseri umani siamo più astuti perché nell'esempio se io cerco Zorro non vado a cercare a metà ma vado a cercare verso la fine sapendo che è Zorro però se vogliamo scrivere un algoritmo molto semplice l'algoritmo di ricerca binaria fa questa operazione quando viene dato un nome va a cercare quel nome esattamente a metà della lista se la lista è dispari è chiaro che cosa è esattamente a metà se la lista è pari sarà uno un po' più sopra un po' più sotto insomma vuol dire un dettaglio quindi va a cercare un elemento a metà della lista quindi immaginiamo che questa sia la mia lista cerco un nome e lo vado a cercare a metà a questo punto io confronto il nome a metà con il nome che sto cercando se questi due nomi sono uguali ho finito e la ricerca e ho concluso il mio lavoro invece poi ho altre due possibilità se non sono uguali perché il nome che sto cercando è in ordine alfabetico prima di quello che sto a metà e allora vuol dire che il mio elemento se è presente se è presente è presente tra il primo e questo elemento a metà e quindi posso scartare tutto quello sotto viceversa se il mio elemento in ordine alfabetico segue l'elemento a metà che io ho pensato a questo punto posso scartare tutta la prima metà e limitarmi la mia ricerca alla seconda metà ci siamo faccio un esempio con numeri alla lavagna allora supponiamo qui di Anna Biagio allora supponiamo che questa sia la mia lista di sette nomi da Anna a Fabio allora il primo passo che io faccio è io sto cercando un nome supponiamo che io sto cercando Biagio e mi chiedo Biagio è presente in questa lista l'algoritmo di ricerca binaria fa questa cosa prende l'elemento a metà allora qua sono uno due tre quattro cinque sei sette elementi l'elemento a metà è esattamente questo che ne ha tre davanti tre prima e tre dopo ci siamo? quindi io prendo questo quindi faccio il confronto mi chiedo Biagio è uguale a Carlo? la risposta ovviamente è no quindi la risposta è no ma a questo punto mi chiedo anche un'altra cosa ma Biagio viene prima o dopo Carlo? cioè è minore o maggiore nell'ordine alfabetico di Carlo? ora in questo caso Biagio viene prima e quindi il fatto che Carlo sia l'elemento a metà e questa lista è ordinata mi dice che se Biagio è presente se è presente è presente sicuramente in questa parte ma sicuramente non è presente qui giusto? non so se Biagio è presente ma so che se è presente qui non c'è giusto? perché questi nomi qui in ordine alfabetico sono successivi a Carlo e Biagio viene prima di Carlo è chiaro a tutti questo? e a questo punto che cosa posso fare? posso andare a completare la mia ricerca non devo più cercare in tutto ma vado a cercare se Biagio è presente in questa lista limitata ai primi quattro e come lo faccio? lo faccio nello stesso modo prendo l'elemento a metà e confronto allora l'elemento a metà in questo caso dipende un po' da come facciamo le operazioni e può essere Biagio o Carlo se prendo la parte intera inferiore no? qua questa è posizione 1 questa è posizione 4 1 più 4 fa 5 5 diviso 2 beh o è secondo o è il terzo se usiamo il secondo vado direttamente a chiedermi questo e quindi confronto e la risposta è sì ci siamo? quindi in questo modo io che cosa faccio? cerco di volta in volta ho un limite di ricerca che all'inizio è dato dalla dimensione della mia lista faccio un primo confronto con l'elemento a metà e a questo punto posso se non concludo però posso escludere metà della lista da ogni ulteriore considerazione giusto? e applico lo stesso modo ripetutamente è chiaro a tutti questo? allora adesso vediamo il programma il frammento di programma qui è descritto però vediamo il frammento di programma come viene fatto allora vedete io inizio la lista poi mi dico fine e vedete che all'inizio cioè stabilendo il valore di queste due variabili inizio e fine possiamo immaginare che inizio e fine rappresentino il margine di incertezza che io ho in questo momento sulla ricerca dell'elemento cosa voglio dire? voglio dire che all'inizio prima di iniziare a eseguire il mio programma io ho una lista non so se prima di fare qualunque confronto non so se l'elemento è presente ma so che se è presente è presente in una posizione da inizio a fine giusto? che inizio è il primo elemento della lista fine è l'ultimo quindi se è presente è presente di quello sto dicendo una cosa ovvia e banale scontata a questo punto mi chiedo why l'inizio minore o uguale di fine adesso poi ci arrivo il concetto l'idea è all'inizio ovviamente inizio è minore di fine è uguale di fine no? quindi l'inizio è zero fine è la lunghezza della lista ci arriviamo dopo al test e che cosa faccio? prendo l'elemento centro che è la metà che è inizio più fine diviso due quindi in questo caso nell'implementazione seguo la parte intera inferiore se vogliamo con riferimento all'implementazione di interi python e poi mi chiedo sequenza centro quindi l'elemento centrale della mia lista è uguale al valore che sto cercando se lo è ritorna vero e a questo punto interrompiamo abbiamo finito siamo contenti se invece non lo è ci sono due possibilità o è maggiore o sequenza centro è maggiore di valore o è minore perché è uguale non è più possibile l'abbiamo escluso e quindi sequenza centro maggiore di valore che cosa vuol dire vuol dire che nel mio caso l'elemento centrale Carlo è più grande dell'elemento che sto cercando Biagio giusto? e quindi che cosa devo fare in questo caso che cosa ho detto se io sto cercando Biagio e l'elemento centrale è Carlo io posso dire posso escludere la mia ricerca questa metà qui e quindi che cosa vuol dire che il margine di incertezza inizio non cambia ma mentre cambia il margine conclusivo il fine giusto? e quindi inizio fine diventa centro meno uno perché centro meno uno? perché centro non è quell'elemento quindi al massimo può essere il caso superiore ci siamo? alternativamente se non è vero il test quindi se sequenza centro non è maggiore di valore noi possiamo concludere che sequenza centro è minore strettamente di valore perché abbiamo già escluso il fatto che siano uguali e quindi posso dire che inizio è dato da centro più uno simmetricamente e a questo punto ritorno nel while e vedete che in questo modo inizio e centro che rappresentano il margine di incertezza piano piano si avvicinano e a un certo punto arriverò all'uguaglianza e quindi o è l'elemento è quello oppure scarto facciamo un esempio in questo caso supponiamo che supponiamo che io sto cercando Enrico quindi la mia domanda è Enrico è presente in questa lista allora il primo passo del mio algoritmo quale sarà andare a vedere sull'elemento centrale che è questo a questo punto la risposta è no e quindi io posso dire che il mio dubbio è tra questo quindi avrò nel secondo ciclo while avrò che inizio sarà questo e fine sarà questo giusto? L'elemento centrale quindi al secondo iterazione del ciclo while questo è inizio e questo è fine l'elemento centrale inizio più fine diviso due mi darà Erika Erika è uguale Enrico no giusto? non è uguale Enrico e quindi che cosa faccio? piglierò ma Erika viene primo dopo Enrico? viene dopo quindi che cosa faccio? aggiorno inizio fine aggiorno fine quindi fine sarà posto uguale a centro meno uno quindi fine al terza iterazione del ciclo while inizio uguale a fine giusto? quindi alla terza iterazione del ciclo io avrò qual è il valore di centro dato da inizio più fine diviso due sarà inizio giusto? e quindi verifico se Dario è uguale Enrico e la risposta è no e quindi che cosa succederà? che io aggiornerò però poiché Enrico viene dopo Dario quello che io faccio cosa succederà in questo caso? aggiorno Dario viene prima di Enrico quindi aggiorno inizio quindi avrò che inizio diventerà inizio più 1 e quindi inizio diventerà minore di fine e a questo punto il ciclo while termina perché se noi pensiamo il mio margine di incertezza di possibile presenza di elemento è quello compreso tra inizio e fine vedete che graficamente ogni volta questi due si avvicinano a un certo punto quando diventa un unico elemento scavallano o inizio viene sotto o fine viene sopra a seconda dell'ordinamento in ombi due i casi abbiamo che inizio e fine non sono più minore o uguali dell'uno dell'altro è importante credo che questo esempio questa discussione abbia dato che sia importante che il test del while sia inizio minore o uguale di fine non strettamente minore perché se fosse strettamente minore non mancherei l'ultimo test ok ci siamo tutti abbiamo capito tutti l'algoritmo prego allora la domanda è se inizio è pari e fine dispari qual è il valore della divisione beh facciamo una divisione fra python di variabili interi no inizio è assegnato il valore intero zero centro è una no centro è assegnato qui non c'è è una vecchia versione ok è la vecchia versione della in cui il risultato è la divisione fra interi e un intero scusatemi grazie per la domanda la domanda è in questo caso è un valore frazionario ma in realtà è la divisione tra interi e quindi da un risultato intero cioè sapete è uno dei passaggi da una versione di python 3 alla versione 2.7 questo era fatto riferimento alla versione 2.7 quindi prende prende il valore intero se in questo caso se 0 6 prende il valore 3 cioè prende il valore intero la parte intera inferiore esatto doppio slash perché non è un elemento intero grazie per la correzione è chiaro a tutti l'algoritmo il programma allora prima di vederne il costo una osservazione il noi siamo abituati nell'esempio che facevo prima nell'elenco telefonico di non andare a cercare a metà e poi a metà della metà è chiaro che noi andiamo a cercarlo tenendo conto dell'ordinamento alfabetico però notate che in questo caso noi non dobbiamo sapere nulla di come sono distribuiti i nomi quindi in qualche modo è perfetto è un meccanismo molto robusto e quindi ha una sua diciamo semplicità adesso quello che facciamo richiede un minimo di la parte più complicata della lezione di oggi e analizziamo qual è il costo nel caso peggiore di questo programma allora per analizzare il costo in programma noi dobbiamo fare tre cose stabilire la dimensione dell'input e credo che in questo caso sia chiaro qual è la dimensione dell'input il numero degli elementi della lista poi dobbiamo stabilire qual è il caso peggiore e qual è il caso peggiore il caso peggiore è quando l'elemento che stiamo cercando non è presente nella lista o è l'ultimo elemento che troviamo però diciamo non presente nella lista è sicuramente un caso peggiore avendo chiaro questi due elementi adesso facciamo l'analisi che in termini matematici è un pochino più complicata del caso precedente io voglio esprimere il costo di esecuzione del programma in funzione della dimensione dell'input allora la dimensione dell'input è n quindi n dimensione input è uguale al numero elementi in lista allora supponiamo non rappresento una lista supponiamo che questa sia la mia lista di n elementi quindi ognuno di questi rappresenta un elemento di una lista e quindi all'inizio prima di eseguire il programma il mio margine di incertezza dove si trova l'eventuale elemento che sto cercando è dato da n giusto? quindi adesso io faccio una tabella in cui vado a contare a seconda di quante iterazioni del ciclo while eseguo vado a contare qual è il mio margine di incertezza quindi iterazioni non margine di incertezza forse è più preciso dirlo come dimensione della sottolista in cui devo ancora cercare della parte ancora da investigare quindi dimensione sottolista da cercare sottolista rimanente allora non ho fatto nessuna interazione del ciclo while la dimensione della lista in cui devo cercare è la lista stessa quindi è n giusto all'inizio prima di eseguire il programma se adesso eseguo un'iterazione del ciclo while nel caso peggiore qual è la dimensione della lista che posso avere n mezzi giusto perché se la mia lista fosse un numero esattamente pari ora questo è l'elemento n mezzi e nel caso peggiore io posso avere un margine di incertezza che è pari a n mezzi giusto questo è l'elemento n mezzi questo è l'elemento 1 questo è l'elemento n questo è l'elemento n mezzi questi sono n mezzi giusto ci siamo tutti su questo questo è l'analisi se avete capito questo avete capito quasi completamente l'analisi perché adesso è solo una ripetizione di questo ragionamento e un po' di matematica alla seconda iterazione qual è il caso la massima dimensione della sottolista rimanente beh io vado a cercare in una dimensione di una lista che è la metà n mezzi e nel caso più sfortunato in cui non trovo l'elemento quante potrà essere la dimensione della lista rimanente la metà di questa quindi n quarti giusto? ora non faccio una prova questa non è una prova matematica ma è una prova matematica da ingegneri se mi consentite se dopo k quale sarà il margine di incertezza sarà ogni volta qua era n di mezzo un altro di mezzo terzo di mezzo eccetera eccetera dopo k sarà n diviso 2 alla k o divido diviso cioè metà un quarto la terza volta sarà un ottavo un sedicesimo dopo k sarà n diviso 2 alla k quando è che interrompo il mio ciclo while quando il margine di incertezza è arrivato a 1 giusto? perché o se è arrivato a 1 o è quell'elemento o non c'è l'elemento nella mia lista e allora adesso concludiamo l'analisi in questo caso allora quanto è il costo di esecuzione di questo programma? allora vediamo che per ogni interazione del ciclo while quante sono le istruzioni che io eseguo eseguirò un'istruzione di calcolo il valore di centro faccio una seconda istruzione in cui verifico se centro l'elemento centro è uguale al valore e poi faccio un altro test e poi faccio eventualmente una delle due operazioni di aggiornamento di fine o di inizio quindi complessivamente il ciclo while io eseguo nel caso più sfortunato una istruzione di assegnazione un primo test un secondo test e poi un'istruzione di assegnazione quindi il ciclo while mi comporta l'esecuzione di quattro operazioni ci siamo tutti su queste quattro? ora il ciclo while comporta quattro operazioni e quante sarà il costo dell'algoritmo sarà dato da questo quattro poi moltiplicato il numero di interazione del ciclo while ma il numero di interazione del ciclo while quanto è? beh adesso lo dobbiamo trovare il massimo valore di k tale che il mio margine di incertezza arriva a uno giusto? non ve lo do direttamente lo do indirettamente qual è quella funzione che dato k fa sì che n diviso 2 alla k sia uno giusto? cioè io sto dicendo devo andare qual è quel k che mi dà come margine di incertezza n diviso 2 alla k che è uguale a uno perché se trovo questo k che è tale n della k è uguale a uno so che o è quell'elemento o l'elemento nella lista non è presente e quindi il mio algoritmo termina ci siamo? e qual è quindi quel valore di k tale che n diviso 2 alla k è uguale a uno il numero di interazioni del ciclo che faccio nel caso peggiore è quel k tale che n diviso 2 alla k è uguale a uno ci siamo tutti su questa affermazione? e adesso qual è? non voglio so che vi sto facendo perdere tempo nella vostra conoscenza dell'analisi ma questo non è difficile da immaginare n diviso 2 alla k uguale a uno vuol dire n uguale 2 alla k e qual è quel k tale che n è uguale a 2 alla k k sarà uguale al logaritmo in base 2 di n giusto? uno diceva ma il logaritmo in base 2 di n potrebbe non essere un intero però in realtà non è questo il valore esatto ma è la parte intera superiore quindi l'intero più grande tale che è k che è verificato e allora abbiamo abbiamo concluso l'analisi perché io posso dire che il costo di esecuzione di questo programma è ordine di logaritmo di n perché ogni iterazione del ciclo richiede un numero costante di operazioni e il numero di iterazioni del ciclo nel caso più sfortunato è ordine del logaritmo di n quindi rispetto alla ricerca sequenziale questo algoritmo è molto molto più efficiente su grandi dimensioni di dati e questo corrisponde alla definizione intuitiva che vi ho dato se dovesse cercare un nome in un elenco telefonico di 800 pagine nessuno di voi inizierebbe dal primo nome della prima pagina eccetera ma andrebbe cercherebbe di andare con un metodo di ricerca binaria o una variazione del metodo di ricerca binaria ci siamo tutti su questo questo è la parte più difficile di oggi adesso invece voglio andare a fare algoritmi di ordinamento per ordinamento gli algoritmi di ordinamento abbiamo qui anche algoritmi di ordinamento molto complicati e molto sofisticati e molto efficienti ci limitiamo però essendo un corso introduttivo a un algoritmo di ordinamento che è l'algoritmo più semplice che uno possa immaginare che è l'algoritmo di selezione qual è questo algoritmo beh l'algoritmo di selezione fa quello che intuitivamente uno può prendere c'è un insieme di elementi da ordinare e che cosa fa cerca il primo all'inizio cerca il più piccolo elemento della lista da ordinare lo mette in prima posizione scambiandolo magari con chi stava al primo poi cerca nei rimanenti il secondo l'altro più piccolo e lo mette in seconda posizione cerca il terzo e lo mette in terza posizione è chiaro a tutti quindi che cosa fa l'algoritmo beh l'algoritmo di ordinamento per selezione che cosa fa nella prima nella prima all'inizio io ho una lista non ordinata allora faccio un esempio intuitivo supponiamo di avere questa lista di numeri non ordinata e di avere questa lista non ordinata e di volerla ordinare l'algoritmo per selezione che cosa fa cerca all'inizio scandisce la lista e cerca l'elemento più piccolo una volta trovato questo elemento più piccolo lo scambia con il primo elemento che a quel momento è al primo posto della lista quindi che cosa facciamo in questo caso scandisco la lista vado a cercare l'elemento più piccolo e l'elemento più piccolo alla fine della scansione sarà 1 e che cosa faccio scambio 1 con 5 e otterrò quindi la lista 1 3 2 4 5 6 e a questo punto come procedo procedo nello stesso modo non è che cerco l'elemento più piccolo vado a cercare l'elemento più dall'inizio ma l'elemento più piccolo da questo punto in poi allora in questo caso l'elemento più piccolo da questo punto in poi è 2 e lo scambierò con 3 ottenendo la lista 1 2 3 4 5 6 ora in questo esempio poi come continuo nello stesso modo vado a cercare l'elemento più piccolo da qui in poi e 3 a questo punto non lo devo scambiare perché rimane con se stesso proseguo anche qui la lista è ordinata e quindi verificherò che la lista è ordinata tante volte ci siamo tutti su cosa come viene fatto questo algoritmo di selezione è chiaro il nome che si chiama ordinamento per selezione cos'è? perché ho un'iterazione in cui ogni volta cerco un elemento più piccolo di quelli ancora da esaminare lo metterò nella posizione giusta quindi ogni volta nell'interazione del mio ciclo sistemerò un elemento per sistemare un elemento dovrò scandire una parte della lista bene devo uscire perché anche questo va formattato allora questo è l'algoritmo vediamolo ora ho un i uguale a 0 che cosa dice? beh inizio sistemi prima il primo elemento poi avrò un ciclo while e il ciclo while è più esterno il primo che leggiamo è il ciclo in cui io sistemo di volta in volta un elemento della lista io nel ciclo while esamino un elemento e sistemo un elemento della lista e quindi lo faccio fin tanto che i è minore della lunghezza della lista perché di volta in volta incremento uno alla fine avrò esaminato tutti gli elementi della lista e che cosa faccio? ipotizzo che il mio minimo sia l'iesimo elemento e poi inizio una successiva scansione dall'elemento i più uno in poi e mi chiedo in un ulteriore ciclo while che cosa corrisponde il primo ciclo while corrisponde a queste iterazioni qui il secondo ciclo while corrisponde all'iescansione di questo per individuare il minore elemento quindi all'inizio parto da 5 e nel secondo ciclo while esamino questo e con indice j e di volta in volta cosa mi pongo mi chiedo se il testo l'elemento j esimo è il più piccolo di quelli finora esaminati se lo è aggiorno il valore minimo come j l'indice minimo a j se non lo è proseguo alla fine di questa parte del alla fine di questa parte del ciclo quando arrivo all'istruzione a questa istruzione if che cosa avrò avrò trovato qual è l'elemento di indice minimo nella mia scansione e se questo elemento è diverso dall'elemento iesimo che sto esaminando li scambio tra di loro quindi queste tre istruzioni eseguono lo scambio di due elementi della sequenza l'elemento iesimo con l'elemento indice minimo per fare questo ovviamente ho bisogno di una variabile temporanea di appoggio perché se eseguo se non usassi questo perderei il valore giusto? vi torno a tutti? cioè questa istruzione tempo uguale sequenza i è necessaria è strettamente necessaria altrimenti dire sarebbe scorretto il programma perché assegnerebbe a sequenza i l'indice minimo ma non cambierebbe il valore di indice minimo lo manterrebbe uguale a se stesso cioè senza tempo bene questo è il programma e a questo punto siamo in grado di analizzare qual è il costo di esecuzione di questo programma allora per fare questo ricordiamoci un po' dell'ambito del caso peggiore allora quale può essere il caso peggiore in questo caso beh allora innanzitutto qual è la dimensione dell'input è data ovviamente dagli elementi della lista il caso peggiore in questo caso è che l'algoritmo ha sempre un caso peggiore non ha un comportamento in cui potrebbe ritornare prima cioè non è che come nei casi di ricerca quando hai trovato finisci no vai continua sempre e in questo caso vedete che dobbiamo semplicemente contare quali sono le istruzioni eseguite per fare questo però invece di andare a contare ogni singola istruzione che potrebbe essere un conto molto faticoso possiamo utilizzare un concetto che vi ho introdotto nella volta scorsa era il concetto di istruzione dominante e l'idea lo ripeto lo ripeto il concetto l'istruzione dominante è basata sul fatto che se io ignoro tutti i fattori costanti moltiplicativi è inutile che vada a contare quante istruzioni eseguo ogni singola istruzione quante volte le eseguo ma posso concentrarmi in questi casi a esaminare solo quale è l'istruzione che eseguo più volte e conto quante volte viene eseguita quell'istruzione e quella è rappresentativa del costo di tutto il mio programma cerco di esplicare il concetto in questo programma qui qual è l'istruzione che io eseguo più volte allora sicuramente non è i uguale a zero la eseguo una volta sola sicuramente non è indice minimo uguale a i perché perché questa istruzione la eseguirò quante volte quante la eseguirò una volta per ogni ciclo while esterno le istruzioni che io eseguo più volte sono le istruzioni all'interno dei cicli più interni scusate il bisticcio di parole e quindi l'istruzione eseguita più volte è l'istruzione all'interno del ciclo while j minore di lunghezza sequenza che è in particolare l'istruzione if sequenza j minore di sequenza indice minimo questo test io lo eseguo ogni volta che eseguo il while j per ogni valore di i giusto? e il ciclo i esterno quante volte viene eseguito complessivamente? verrà eseguito n volte se n è la dimensione della lista n meno una volte se n è la dimensione della lista quindi il ciclo while esterno viene eseguito n meno uno volte pensate all'algoritmo se io ho una lista di cinque questo tipo eseguo una prima scansione alla ricerca del primo elemento lo sistemo e poi esaminerò una lista rimanente poi sistemo un secondo elemento una lista rimanente quando interrompo quando arrivo a esaminare una lista di un solo elemento che è naturalmente ordinata quindi il ciclo più esterno viene eseguito un numero di istruzioni pari agli elementi della lista meno uno e il ciclo più interno quante volte viene eseguito viene eseguito un numero di volte pari alla dimensione della lista che sto eseguendo in quel momento quindi la prima volta eseguo tutta la lista una seconda volta tutto meno uno una terza volta tutto meno due quindi l'istruzione di test interno quante volte la eseguo qua quando confronto cinque con tre cinque con due cinque con quattro cinque con uno e poi uno con sei giusto quindi quanti confronti faccio faccio se n è la dimensione della lista ne farò n meno uno qui giusto qui quanti per confrontare trovare il secondo elemento della lista da mettere qui quanti confronti faccio qui ne faccio n meno uno qui parto da un elemento già posto ne farò n meno due giusto se qui ho una lista di sei elementi per trovare il minimo faccio cinque confronti se ne ho una lista di cinque elementi per trovare il minimo ne faccio quattro qui ne farò n meno tre poi n meno quattro fino a quando andrò avanti fino a quando dovrò fare un solo confronto tra l'ultimo e il penultimo elemento giusto e quindi il numero degli elementi per una lista n il numero di operazioni dell'istruzione che io eseguo più volte sarà la prima volta n meno uno più n meno due più n meno tre più eccetera eccetera più due più uno quando lo eseguirò con un unico elemento avrò trovato il confronto tra gli ultimi due e ho finito e qual è questa funzione che è il costo di esecuzione di un algoritmo che è dato da n meno uno più n meno due n meno tre eccetera eccetera non è altro che la sommatoria da uno a n meno uno e quindi il costo di un algoritmo possiamo scrivere anche senza ricordarci quanto è esattamente la sommatoria la somma aritmetica ordine di n quadro ci siamo tutti su questo? quello che io ho fatto adesso è l'analisi del costo di esecuzione di quell'algoritmo ipotizzando contando limitandomi a contare quante volte viene eseguita l'istruzione all'interno del ciclo while e spero di avervi convinto tutti che è eseguita ordine di n quadro volte in realtà uno potrebbe dire n quadro mezzi ma noi ignoriamo i fattori moltiplicati adesso ultimo passaggio e poi facciamo un po' di esercizi e non non facciamo pause ma passiamo direttamente a un po' di esercizi ultimo passaggio è di capire che questa analisi che ho fatto adesso è sufficiente per dirvi l'algoritmo in questo programma un costo di esecuzione ordine di n quadro allora sicuramente non può avere un costo inferiore perché io ho trovato un'istruzione che viene eseguita n quadro volte quindi non ha un costo inferiore potrebbe avere un costo superiore e la risposta è no perché vedete che ogni altra istruzione che viene eseguita nel programma l'istruzione indice minimo uguale a i j uguale a i più 1 se indice minimo è diverso eccetera viene eseguito un numero di volte inferiore all'istruzione all'interno del ciclo while e quindi il costo di eseguire è un numero di volte che è pari al numero dell'iterazione del ciclo esterno while n volte e quindi il costo di eseguzione di questo programma è n quadro più 4 volte 5 volte n ma questo lo possiamo ignorare e quindi ci limitiamo solamente all'istruzione eseguita più volte contando quante volte viene eseguita abbiamo il costo di eseguzione del programma quindi questa analisi è un po' più complicata delle altre è il caso più complicato che vediamo oggi poi l'anno prossimo nel corso di fondamenti di informatica 2 approfondirete queste tematiche questi aspetti in maniera molto più precisa è puntuale ci sono domande? bene adesso facciamo qualche esercizio ma finiamo tra un quarto d'ora quindi non ha senso fare una pausa perché tra un quarto d'ora finiamo allora su questa parte di complessità la parte degli esercizi sarà relativamente semplice non abbiamo fatto molto abbiamo fatto solo due lezioni e non c'è molto allora quello che io vorrei darvi sono come esercizi in realtà ne facciamo sono più domande teoriche che di esercizi perché non c'è molto l'unico esercizio può essere il primo dire il costo nella notazione o grande del seguente programma python dove A è una lista allora mettiamolo nella notazione questa vedete la notazione allora qui mi è fuggita la allora bisogna avere questo frammento di programma che cosa fa questo va a vedere che cosa fa questo programma cerca se un elemento in una lista ha un numero pari giusto e quando trova il primo pari lo stampa ed esce no ora qual è la dimensione dell'input in questo caso è dato dagli elementi della lista qual è il caso peggiore e il caso in cui l'elemento che io sto cercando sono tutti dispari e qual è il numero di operazioni che io faccio beh il numero costo complessivo è che farò un confronto per ogni elemento della lista e a questo punto avrò un ordine di esecuzione del programma che ordine di n dove n gli elementi della lista poi se uno dice il caso peggiore quando è l'ultimo oppure l'ultimo è pari o l'ultimo non c'è a seconda se devo eseguire o meno il print beh questo è un dettaglio insomma che non ci interessa il break deve essere qua domande il break era qui i tre porcellini sviluppano tre diversi programmi per risolvere il problema di superare un bosco in ampiezza e fuggire dal lupo cattivo i programmi impiegano 10 n quadro più 4 più 2 la n 34 n quadro 111 più 47 n qual è supponendo che il bosco sia molto grande e spiegare qual è il programma più efficiente e qual è il programma meno efficiente allora questo è un semplice esercizio che richiede di capire che cos'è la notazione o grande il più efficiente è quello che nella notazione o grande ha un costo minore e nella notazione o grande le operazioni che noi facciamo eliminiamo gli elementi che vanno all'infinito più debolmente dell'elemento principale ad esempio nel programma nel terzo 111 più 47 n un elemento 47 n va all'infinito al crescere dell'input l'altro è una costante quindi noi possiamo ignorare direttamente 111 giusto? nel primo programma e a questo punto poi sappiamo anche che ignoriamo fattori moltiplicativi e quindi io posso dire che il secondo programma ha un costo di o di n quadro perché ignoro il 34 ci siamo? il terzo programma posso dire che ha un costo di o di n perché ignoro 111 e ignoro 47 ci siamo? il terzo programma ha tre fattori qual è quello che cresce più velocemente al crescere di n verso l'infinito e ovviamente 2 alla n e quindi il terzo programma posso ignorare 10 n quadro e 4 e quindi il primo programma scusate ha un costo di o di 2 alla n il secondo ha un costo di o di n quadro il terzo ha un costo di o di n ci siamo? dove o è la notazione o grande e allora se un programma ha un costo o di 2 alla n uno ha un costo di n quadro e uno ha un costo di o di n qual è quello più efficiente? quello che all'infinito va più lentamente che quindi è in questo caso il terzo o di n e qual è il peggiore è il primo che va all'infinito come 2 alla n in maniera esponenziale ci siamo? adesso dare un esempio di problema non risolvibile in tempo polinomiale bene abbiamo discusso nella lezione quando abbiamo fatto questa parte anche il concetto di quali sono i programmi efficienti e c'è una definizione che può sembrare a prima vista abbastanza discutibile ma che è molto robusta in pratica ed è largamente accettata che dice che i programmi che sono efficienti sono quelli eseguibili in tempo polinomiale quindi ad esempio nell'esempio del primo esercizio io potrei dove avevo tre programmi posso dire che il secondo e il terzo anche se il terzo è migliore del secondo sono tutti e due programmi efficienti perché sono tutti e due polinomiali uno cresce linearmente in n l'altro cresce quadraticamente ma sempre come polinomiale quello non efficiente è il primo perché cresce come 2 alla n bene la domanda dice dare un esempio di problema non risolvibile in tempo polinomiale e l'abbiamo visto e l'ho discusso i problemi non risolvibili in tempo polinomiale sono i problemi ad esempio di stabilire se una formula logica è soddisfacibile oppure sono alcuni altri problemi che abbiamo discusso ad esempio dei giochi di interazione con giochi di sassi o giochi di tassellature ci sono una serie di problemi che non sono polinomiali esempio invece se mi viene chiesto qual è un esempio di problema polinomiali bene abbiamo appena visti due oggi abbiamo visto la ricerca in una lista e l'ordinamento di una lista sono ambedue due esempi di programmi polinomiali l'ultima domanda era dare un esempio di problema non decidibile tra le programma va descritto nel dettaglio beh questo fa parte della parte di calcolabilità che abbiamo visto in cui abbiamo visto sostanzialmente la dimostrazione di un problema non decidibile che è il problema della fermata quindi discutere questo poi esistono varianti del problema della fermata che vanno ugualmente bene ad esempio analogamente al problema della fermata io posso decidere è un problema indecidibile sapere se dati due programmi sono uguali oppure se un programma stampa sempre stampa sempre zero ci sono una serie di programmi ma il più classico e più semplice è il problema della fermata che chiede di stabilire se un programma si ferma con un dato input bene se non ci sono domande io ho finito per oggi grazie